Ah, si, ok, è frutta e quindi c'è invece se volevo dirvi, vabbè, se mi posto questa mano, si, mi sento questa, si è questa, mi presento delle polypocket, metto aperto a cercare, questo è il mio primo polypocket, in assoluto, aperto, se ne metto i polypocket, così nuovo, devi iniziare, e il magazine, ok, ok, sono solo a casa, quindi, ok, quindi, mi sento, non so che gli altri, quindi, ogni 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 ora, Grazie. 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 che bella leggere me va bene che è una mini mini storia il mio set è davvero bello il mio set è davvero bello mi sono davvero staccata oh guarda un po' qui non lo metto non lo metto non lo metto no non mi dire quella è proprio Polly ehi Polly oh ma lei l'ha portato a cash no ecco adesso ti piace è bellissimo ecco 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 e l'immagine e tutto l'antica tra e 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